Intravediamo il primo spiraglio di luce dopo una lunga notte, la strada sarà ancora lunga perché possa arrivare il giorno, però è importante cominciare. Sono arrivate le prime dosi simboliche dei vaccini, quindi intravediamo il primo spiraglio di luce dopo una lunga notte, la strada sarà ancora lunga perché possa arrivare il giorno, però è importante cominciare con questa vaccinazione simbolica che domani tutti i cittadini europei inizieranno e nei prossimi mesi continueremo questa campagna per portare il nostro Paese nei tempi in cui sarà possibile fuori da questa emergenza. È confermato che da domani arriveranno altri 450 mila? Domani sarà un giorno molto simbolico, molto emozionante, molto partecipato, siamo convinti che tutti i cittadini comprenderanno l'importanza di questo momento. Grazie. 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 Grazie.